DIMMI DOVE STA Chi cazzo è quello? Un povero stronzo. È innocuo. Noi siamo con te. Se si avvicina gli facciamo il culo. Che cazzo vuoi? Vorrei ammazzarti. Non sei degno di stare al mondo. Tu sei fuso. Ma la prigione non fa per me, quindi ti farò solo tanto male. Non avresti dovuto colpirla. E perché? Perché io vado matto per quel visetto. Invece a me non dice un cazzo quella puttana. Lì. La prossima volta ti sgonfierò le palle, amico. Tu sei pazzo. Adesso sai che faccio per vivere.